Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi, namuno in uscita a Firenze-Sud, proveniente da Bologna, sulla Firenze-Mare, tra Sesto-Fiorentino e Firenze-Peretro, e tra Prato-Ovest e Biglio 11-1, tutto verso Firenze, e in Fipili, tra la Strassigna e Firenze-Scandici, ancora una volta verso il capoluogo. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario. La circolazione è rallentata sulla Siena-Chiusi, per un guasto temporaneo e un passaggio a livello tra le stazioni di Siena-Lunga e Monte Pulciano. Primi treni interessati 30-37, Siena-Chiusi, 69-04, Chiusi-Siena. Segnaliamo inoltre che per un problema materiale rotabile, il treno 3100 Livorno-Firenze è cancellato da Pisa Centrale a Firenze-Santa Maria Novella. I viaggiatori proseguono con treno regionale 23-400. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!